Question time libero, chi c'ha il microfono? Che c'hai? Avete fatto il cartello, sembrate? Ah, brava, sì. Tutte? Meraviglioso. No, perché gli avevo chiesto... Vabbè, questa allora la facciamo vedere. Vabbè, facciamo dopo. Tanto una domanda sulle primarie arriva, vai. Ha trovato un posto della Barbara divertente. Bene, chi parte? Uno, tre, quattro per volta, che dici? Allora, parte Mauro Usai. Ma vi siete già messi d'accordo? No, allora raccogliamo come vogliamo. Vai, passate un po' di vino. L'organizzazione è fantastica, io devo tutto imparare. PD è un partito molto più serio di quello che voi pensate. Sono organizzati davvero. Sono io che sono un casinista, ma loro sono bravi. Vai, Mauro, di dove sei tu?